Non mi abbatte niente, io vado giù avanti come un martello pneumatico. Siamo forti. Va bene, allora, la puntata di oggi è questa, domani ti faccio tornare Enza, perché domani incontrerai Giovanni, che è il tuo corteggiatore. Vediamo che succede. Oh, ricordatevi di comprare le arance della salute, sabato 28 gennaio di quest'anno naturalmente l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuirà in 500 località in tutta Italia oltre 700 mila kg di arance, messe a disposizione dai maggiori produttori della Sicilia. Ringraziamo i produttori della Sicilia. Oh, questa è una bellissima iniziativa, ci sono dei sacchetti che costano 12 mila lire e contengono 3 kg di arance. Invece di comprarle in quel giorno da chiunque rivenditore, comprateli nelle piazze, perché in questa maniera aiuterete la ricerca per il cancro. Vi ringrazio molto, domani sui giornali ci sono le 500 città, quindi non perdete di comprare anche il giornale per sapere dove dovete comprarlo. Alessandro Crudi, un gran bellezza, grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani. Un angelo blu vola in cielo, un angelo blu che se fischio torna giù, un angelo blu e lei lo sa, è tutto ciò che io ho e in gabbia l'atterrò, l'atterrò. L'atterrò L'atterrò